Messina è una città che ha sete, sete di giustizia sociale, sete di equità, sete di riscatto, una sete che si può placare solo attingendo alla sorgente di vita eterna, acqua che zampilla dal costato di Cristo. E con questo messaggio che l'Arcivescovo Monsignor Accolla saluta la Pasqua di quest'anno, parlando ai messinesi assetati di verità, giustizia, pace e misericordia, a tutti quei messinesi assetati di impegno sociopolitico e di servizio per il bene comune. Oggi ha spiegato Accolla che le nostre città sono continuamente interpellate dalla precarietà dei servizi offerti ai cittadini, dal problema della vivibilità di alcuni quartieri, dalla preoccupazione dell'integrazione sociale dei propri cittadini e dei migranti, dalla carenza dei servizi sanitari e del diritto allo studio, dalla diffusa piaga della disoccupazione. La partecipazione e la condivisione dell'assunzione di responsabilità per la gestione della cosa pubblica interpelle in maniera trasversale tutti i credenti e non credenti. La Pasqua, evento di liberazione, festa prototipo di un popolo che si sente in cammino e ha il coraggio di sapersi mettere in gioco e di affrontare le sfide. E poi il riferimento all'impegno della Chiesa a figure importanti come quelle dei Santi e dei Beati Messinesi, esempi luminosi sulla scia dei quadi siamo chiamati a vivere la Pasqua del Signore come nuove creature.